Gianluigi Graniero, Presidente Lega Coppa Liguria, oggi alla Camera dei Deputati, alla Sala del Refettorio, un'emozione particolare presentare la tesi qui a Roma. Certamente sì, abbiamo riportato, come abbiamo detto, Pertini alla Camera, ma era anche per noi importante, era per noi un simbolo, il simbolo delle istituzioni e dell'importanza che le istituzioni hanno nel rappresentare l'unità del Paese e il bene comune. Abbiamo pensato che fosse importante portare il suo lavoro sulla cooperazione anche qui e dire con forza che la cooperazione è al lavoro per guardare anche al futuro e per guardare a un possibile futuro positivo per il nostro Paese. Ci si chiede alle volte se la cooperazione è al passo con i tempi, Pertini non aveva alcun dubbio. Pertini non aveva alcun dubbio, ha definito la cooperazione un fenomeno moderno. A me piace dire che la cooperazione è storicamente portatrice di innovazione, creatrice di mercati e creatrice di servizi e risposte a bisogni che fino a quel momento non trovavano risposte. È stato così e siamo convinti che potrà essere così anche nel futuro. Grazie.